Disciplinare il flusso di presenze sul territorio comunale a partire dai turisti che decideranno di fittare un appartamento. Anche per questa estate il comune di Praia a Mare ha perentoriamente divulgato l'avviso indirizzato ai proprietari di case vacanza. La decisione arriva in esecuzione di una delibera consigliare del 1995 che a sua volta aveva recepito una legge del 78 ed una successiva del 2011 in merito alla riforma della legislazione nazionale del turismo. Far conoscere le generalità delle persone ospitate garantisce, secondo la legge, maggiore garanzia di sicurezza e di controllo del territorio. Nello specifico i gestori di case e di appartamenti dovranno compilare un apposito modulo di cessione del fabbricato scaricabile dal sito del comune di Praia con l'annesso documento di identità delle persone alloggiate e comunicare alle generalità entro le 24 ore successive al loro arrivo. La polizia municipale poi provvederà ai controlli. Un provvedimento dovuto ma che può essere anche utile per comprendere e analizzare i flussi turistici. I dati dei fitti incrociati con quelli delle presenze in albergo possono dare indicazioni importanti circa le caratteristiche del turista tipo. Le disposizioni dunque esistono, tocca ai comuni metterle in pratica e Praia ha già provveduto da diversi anni.